Mary Hardy Mary Hardy è stata una presunta medium americana ad effetti fisici, nota perché nel 1875 fu la prima a ottenere i primi calchi di paraffina, di mani che potevano essere medianiche. I calchi medianici sono calchi di gesso ottenuti da forme materializzate durante le riunioni medianiche. Il processo fu ideato nel 1875 dal geologo americano professor William Denton. Le riunioni della Hardy avvenivano in pubblico davanti a centinaia di persone e non certo in condizioni di severo controllo. Appartenevano allo spettacolo. Se la Hardy era uno strumento, è servito a divulgare il contatto con i piani superiori di esistenza nei suoi aspetti più elementari.